Oddio, no ragazzi, no non ci posso credere, io me ne vado, Maria io esco, ciao. Ragazzi, finalmente dopo mesi è uscito un aggiornamento di Fortnite e hanno rimesso la mia arma preferita, la K47. Grazie Epic, grazie che mi vuoi bene, grazie mille. Se voi ragazzi mi seguite da tanto tempo sapete benissimo che quando c'era la K io utilizzavo solo quell'arma come assalto. Lo SCAR, l'M4 non mi interessavano, io ho sempre amato la K perché premia la mira e la K è assolutamente un'arma troppo troppo forte. Se non sapete come funziona ragazzi ve lo spiego brevemente. Quando praticamente andate nelle vere città che trovate appunto la tavola del lavoro, che è appunto quella tavola che vi serve per fare l'upgrade di livello di rarità delle armi, avrete la possibilità di convertire il vostro M4 in AK o anche lo SCAR può essere convertito in AK. Quindi se per esempio avete uno SCAR leggendario, il vostro SCAR leggendario può essere convertito in un AK leggendario che va a fare 41 in corpo e 74 sulla testa ragazzi, fuori di capoccia. Quindi ragazzi prima di iniziare col video io vi invito a lasciare subito un bel mi piace a questo video perché è sempre di supporto, inoltre se volete avere tanta fortuna in questo 2020, di utilizzare il codice creatore Accuratomist nello shop di Fortnite. Basterà appunto andare nell'item shop di FN, cliccare sul rettangolino in basso a destra e andare ad inserire semplicemente il mio nickname. Accettare e il gioco sarà fatto. Inoltre ragazzi vi invito a seguirmi su Instagram dove pubblico ogni giorno dei post, delle foto e anche delle mini clip di Fortnite che sono davvero davvero molto belle. Ma comunque trovate tutti i miei social giù in descrizione. Detto questo ragazzi, guardatevi questo fantastico video. Ah io non credo molto, ok? Voglio il mio AK e basta. Ma perché vedo i colori dei barri strani? Scusami, step, ma... Posso avere un'arma che non sia un FAMAS? Grazie. Sì, è molto gentile. Altro FAMAS, altro FAMAS... Oh, basta! Quanti? Gli ho trovato 50 FAMAS. Ma io ho dei barri strani, ragazzi. Hanno gammato il dattonismo per forza, perché c'ho protanopia... Protanopia 10 e non si vedeva così. Cioè guardate i barri come si vedono. Mi sembra che hanno gammato il dattonismo, per forza. Per forza, per forza. Cioè i colori sono proprio strani. Non so che dirvi. Eh, buongra, a me. Ok. ... ... ... Grazie. Grazie. Non so che si pensava che stava a box fight, non ho capito. Riprenditi, farata. Voglio il mio AK, voglio il mio AK. Dove sta, dove sta, dove sta? Eccolo qua, mwah. Nice. Allora. Fulliamoci per bene con lo shield e andiamo direttamente in safe. Allora. 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 Grazie. All right. All right. Ok, tipo, adesso ragazzi abbiamo lo scar. Vedete che significa questa cosa? Che può diventare una cappa viola. Io direi. Io non ricordo se a Solti ci sta il coso per fare l'upgrade delle armi. Personalmente non mi ricordo. Fattoria ci sta sicuramente, ma è troppo distante. Aspetta, a Solti non era tipo dentro il garage di una casetta, la casetta tipo quella rossa? Possibile? Mi sta di sì, eh? Se non ricordo mai... Vedete ragazzi i colori che strani che sono? Guardate i colori. Guardate che colore strano, raga. Guardate come vedo strano. Guardate il 책 zoe. Guardate qui ecco. Guardate qui. Guardate i colori che occhi 1965. Guardate qui ecco. Ok felice di questa cosa che hai appena fatto Vedete la cappa blu Però no mi conviene prendere la cappa ragazzi Mi conviene fare proprio l'upgrade Mo vi faccio vedere Mamma mia costa 60 ragazzi Mamma mia Quanto fa? 39 in body Ma tu Quindi conviene tipo prendere Se c'è una cappa verde per terra E un ar blu Ti conviene prendere l'ar blu e convertirlo in una cappa Perché se no ti costa troppo Mentre con l'ar blu la conversione costa 20 materiali per tipo Quindi 60 contro 300 materiali Ok quindi la cappa spara veloce ragazzi Non è più il vecchio a cappa Quando lo fai viola Credo non lo so È finito? Yo brother Ah no Ok questo costa 200 Ok Ovviamente Mado 41 in body ragazzi Questa cosa è illegale Questa cosa è illegale C'è Oh madonnina mia Ok 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 Sono nei faiardini questi ragazzi Devo giocarmela Safe per forza Si stanno giocando pure le sorelle questi Sì Ma l'ha buggeato colpizio Ma l'ha buggeato colpizio Ragazzi è fortissimo La cappa è fortissima ragazzi Cioè la cappa è veramente broken 41 in body ragazzi è illegale 41 in body è illegale È troppo